immagina di vedere ogni dettaglio ogni sfumatura di colore in ogni momento come se fossi lì dal vivo questo è il potere del 6k hdr per me il 6k hdr non è solo una tecnologia ma un modo per raccontare storie in modo autentico è come se la cinepresa scomparisse lasciando spazio solo all'emozione pura l'hdr o high dynamic range è una tecnologia che porta le produzioni a un livello completamente nuovo con l'hdr i colori sono più vividi e realistici i contrasti sono più intensi e le ombre più profonde le immagini non solo prendono vita ma trasportano il pubblico direttamente nella scena quando guardi un'immagine hdr senti quasi di poterla toccare è un'esperienza che coinvolge in tutti i sensi e per un narratore visivo questo è impagabile abbinato alla risoluzione 6k l'hdr non solo migliora la qualità visiva ma la eleva a una dimensione completamente nuova il 6k offre una nitidezza impressionante sei volte superiore al full hd catturando ogni dettaglio con una chiarezza cristallina ma con l'aggiunta dell'hdr il 6k si trasforma in un'esperienza visiva senza precedenti ricordo quando ho visto per la prima volta un mio lavoro in 6k hdr è stato come vedere la realtà stessa sullo schermo ogni piccolo dettaglio ogni sfumatura di luce tutto prende vita porta alla qualità dei tuoi video a livello successivo con il 6k hdr ogni storia che racconti sarà più intensa più ricca più vera doson films dieci anni di visioni